L'ex sindaco di Giulia Nova Francesco Mastromauro accende riflettori sul mercato ittico comunale. In particolare al centro della questione c'è il ricorso presentato dall'autorità garante della concorrenza e del mercato nei confronti del comune costiero, questo per delle presunte irregolarità attuate nell'affidamento della gestione del mercato ittico. Questa vicenda va avanti da tanto, da almeno da più di un anno, ma il 15 marzo del 2023 l'autorità garante ha inviato questa diffida indirizzata al presidente della regione Abruzzo Marsiglio e al sindaco di Giulia Nova Costantini nella quale diffida ripercorre tutta la vicenda e da ultimo diffida gli enti a porre rimedio da subito a questa vicenda che riguarda il fatto che non c'è stata concorrenza perché di fatto il comune di Giulia Nova essendo un ente consorziato dell'ente porto non poteva acquisire quote della società consortile mercato ittico Giulia Nova che ha ricevuto un affidamento provvisorio. Secondo che in ogni caso, perché naturalmente va a distorcere le regole del libero mercato e della concorrenza, secondo non si poteva affidare direttamente un servizio come il mercato ittico perché non è una procedura in house e quindi siccome era stata iniziata anche una procedura per un bando europeo, tutto ciò è viziato e si diffidava entro 60 giorni a rimuovere queste illegittimità pena in caso di mancato assolvimento il ricorso al TAR. Il ricorso al TAR che purtroppo c'è stato. La preoccupazione di Mastro Mauro è che il mancato adeguamento da parte del comune possa portare a un danno per le casse comunali e per il mercato stesso. Che si spieghi perché è stato fatto tutto questo, perché è stata reiterata questa procedura sapendo che era viziata ab origine illegittima e terzo perché dopo che sono stati dati 60 giorni dall'autorità garante per il mercato alla concorrenza per porvi il rimedio, ciò non è stato fatto posto che nella misura che io ho fatto per altre mie ricorsi al TAR pendenti ho visto che c'era questo ricorso al TAR pendente il 16 giugno.